come scegliere l'opportunità giusta per te benvenuto anche in questo video oggi domenica 10 ottobre e per quanto riguarda il nostro diario giornaliero siamo al giorno 10 sono in mezzo ad un corso quindi una full immersion e mi voglio dedicare a te che in questo momento ti sei preso del tempo per guardare su questo canale quindi ti invito ad iscriverti al canale youtube luca vitali e attivare la campanella per ricevere e quando ci sono nuovi video aggiornamenti la formazione gratuita e comunque condividere anche tutto questo con i tuoi amici ma andiamo subito al dunque perché oggi veramente un giorno molto molto prezioso in termini di tempo come tutti del resto quindi come poter scegliere la tua strada in questo momento a livello di business e quant'altro sicuramente da domani se sei all'interno dei miei contatti comunque mi segue e quant'altro potresti ricevere una comunicazione su come avere la possibilità di scegliere per il meglio quello che adesso è letteralmente impossibile farne a meno il business online perché veramente non c'è proprio più possibilità di lasciarlo da parte di non prenderlo minimamente in considerazione perdonami se mi ripeto è tuttavia questo è qualcosa di davvero importante impattante che non puoi fare a meno qualsiasi sia il tuo lavoro la tua attività vogliamo entrare a piedi tesi sul discorso che non voglio del green pass su tutto quello che adesso può succedere cosa fai qual è l'alternativa cioè ti rendi conto in questo momento storico l'incertezza dei posti di lavoro e quant'altro quindi se non hai ancora iniziato a crearti una realtà tua che possano spaziare veramente da tanti vettori te ne faccio almeno cinque io in questi giorni le ho approfonditi ancora ma le studio dal 2016 quindi vogliamo parlare del business online come marketing online quindi info imprenditore vogliamo parlare del network marketing vogliamo parlare degli e commerce con la branchia del draw shipping ad esempio conosci tutto questo vogliamo parlare ci sono gli affiliate ci sono veramente tante opportunità c'è la parte immobiliare vogliamo parlare di tutto il settore finanziario dal trading le criptovalute ti avevo detto cinque siamo già andati oltre ecco io la possibilità di poterti aiutare nel capire qual è la tua strada quel perché per primo ho fatto io ci sono passato ho dovuto fare veramente delle scelte ho voluto approfondire entrare proprio nei settori per rendermi conto anche quello che poteva essere il grado di servizio che si può dare e ricevere il beneficio perché parliamoci chiaro se comunque sei qui e sei arrivato a questa parte del video vuol dire che qualcosa ti ho trasmesso e stai percependo che ti posso suggerire aiutare nella nello scegliere il tuo business online perché veramente io ti voglio bene come se ti avessi qui davanti e ti direi avendoti qua ti prenderei sotto braccio di guarda andiamoci a avere una cosa e capiamo insieme quali sono le tue esigenze ecco questo è il clima che tu ed io andremo a instaurare quindi alla fine di questo video quando poi le altre volte entrerai su youtube ti renderai conto e ti ricorderai di luca vitali che ti sta offrendo l'opportunità di fare chiarezza di fare di avere una visione dall'alto su tutto quello che può essere il business online perché io per primo me ne occupo dal 2016 e ti voglio far evitare tanti errori tanti fallimenti tanti davanti a te c'è una persona che ha investito oltre 60 mila euro informazione in corsi in test in fallimenti in tutto quello che riguarda il business online e ti assicuro che per me la priorità è darti la strada più rapida e più sicura più veloce sì tuttavia sappi che nessuno c'è la bacchetta magica nel prometterti quel tipo di guadagno quel tipo di situazione quella cosa che magari da tanto sogno c'è un percorso comunque da fare c'è da imparare delle competenze c'è più che altro da fare un grande cambio quindi mindset l'avrei sentito ormai ultimamente tante volte e adesso è assolutamente indispensabile quindi ricapitolando adesso da domani aprirò delle finestre di opportunità per avere delle consulenze insieme e capire quale può essere davvero la tua strada poi faccio anche dei percorsi proprio di coaching one to one dove davvero lì andiamo anche ad avere a prendere in mano dei protocolli che se non sai che cosa sono i protocolli sono tutti quei modelli rapidi dove sono pronti all'uso di una procedura di qualcosa che già funziona e lo applichi a quello che può essere la tua attività il tuo modo di fare le tue abitudini non ho ancora parlato del cambio delle abitudini perché poi partiamo nell'anno ma tutto questo ne parliamo nella consulenza privata che puoi anche prenotare nel link che vedi qua sotto quindi adesso ti rinnovo ad iscriverti al canale mettere mi piace e taggare i tuoi amici insomma attiva la campanella vedi tutto quello che puoi fare per seguire e darmi supporto con questo canale noi ci vediamo in consulenza privata ti mando un bacio e ci vediamo domani con il nostro diario giornaliero domani con il nostro diario giornaliero domani con il nostro diario giornaliero